La Russo Ravidations è conosciuta come verdone o color mina verde ed è considerata la migliore tra le russole comestibili. È facilmente riconoscibile per la cuticola screpolata, inizialmente colorata di bianco ma poi assume una colorazione di verna e nocciola. Lamelle fragili, prima bianche e poi crema pallido, spesso con macchie brune. Odore lieve di frutta, sapore gradevole e di noccioli. Cresce in estate e autunno nei boschi di latifoglie o sottofaggio, quercio o castagno. Si potrebbe confondere con la Russo Lodivastia, fungo tossico se consumato crudo o con Anamianita falloide, fungo mortale che ha anello e volva sul gambe. Ricorda, la ricerca di fughi è soprattutto motivo per compiere una salutare e rilassante passeggiata nel bosco. Grazie. Grazie.